Lager A Quando siamo entrati in questo Lager A io sono stato messo nella baracca numero 11 mentre papà, Giacomo, è stato messo nella baracca numero 15 Dopo il lavoro ci incontravamo giusto per un pochettino per avere anche la soddisfazione di sentirci Era uno dei momenti di grande, posso dire, importanza per me perché mi sentivo al sicuro avendo un papà vicino però avevo anche dall'altra parte dei fili spinati mia sorella Lucia, la mia amata sorella Lucia e purtroppo dall'inizio che siamo entrati in questa fabbrica della morte non abbiamo avuto la possibilità di vederci Io, insomma, non posso raccontarla lunga ho avuto la fortuna una sera cercandola dall'altra parte dei fili spinati di vedere mia sorella Lucia ma mia sorella Lucia non la riconoscevo più era diversa, era completamente irriconoscibile in un mese di tempo mia sorella Lucia non ce l'ha fatta ma prima di questo voglio dire anche mio papà mio papà per me è stato una persona importantissima importantissima perché era un uomo che cercava di darmi dei consigli e di tenermi, insomma, vicino ma quello che voglio dirvi, insomma Scusate, puoi dirci, la prima volta che ho visto tua sorella Allora, avendo visto mia sorella dall'altra parte dei fili spinati in condizioni veramente disastrose io avevo deciso una sera di fargli un regalo a mia sorella vedete, ma che cosa puoi fare il regalo a Birkenau? non avevamo niente in mano per poter regalare una sorella e avevo deciso quella sera di non mangiare la mia fetta di pane di 125 gre mi ha avvolto questa mia fetta di pane in un panno l'ho vista dall'altra parte dei fili spinati parlavamo con lei, con i gesti gli ho fatto capire che gli avrei mandato qualcosa e lei aveva capito gli ho fatto i salti mortali per poter spedire questa fetta di pane dall'altra parte dei fili spinati perché c'erano sempre questi guzzini nelle torette che guardavano e controllavano tutte le situazioni e in tutti i casi questa fetta di pane mia è arrivata dall'altra parte dei fili spinati e mia sorella Lucia quando l'ha aperta ho visto questo mio regalo è stato un gesto che io non me lo posso mai dimenticare evidentemente non vedevo le lacrime di questa mia sorella il gesto di quell'abbraccio io non me lo posso dimenticare mia sorella Lucia sicuro aveva le lacrime agli occhi di questo mio gesto poi poi ho fatto dire che mi ha spedito anche lei un regalo l'ho raccolto questo regalo ma che cosa c'era dentro? c'era la mia fetta di pane di ritorno la sua fetta vedete vedete io con mia sorella Lucia a Rodi avevamo qualche cosa di speciale credo di avervelo detto lei mi ha fatto da mamma e da sorella e anche lì a Piscinao e ha voluto continuare da mamma e da sorella dunque vedete sono dei gesti che può darsi significanti per voi per me sono qualche cosa che è nel Mozilla io non mi posso dimenticare io non mi posso dimenticare che ho speduto Grazie a tutti.